Oggi è una bella giornata anche di sport perché riuscire ad avere un incontro che è stato di grande cordialità soprattutto ma soprattutto di grande distensione tra il Comune di Napoli e la Società Sportiva Calcio Napoli ritengo che sia un buon inizio di collaborazione. È stato un incontro interlocutorio, abbiamo dato la massima disponibilità, ma creeremo un ufficio tecnico che si confronterà in maniera settimanale con un tavolo permanente settimanale con i tecnici e con le figure professionali che proporrà la Società Sportiva Calcio Napoli proprio per dare il massimo della distensione e soprattutto per collaborare insieme a un progetto che riteniamo debba essere straordinario. Sicuramente noi faremo sì che ci siano tutte le possibilità, non venga lo stadio, l'impianto non venga negato a nessuno come avviene e come dovrà avvenire. Anche sulla questione legata ai grandi eventi non dobbiamo far sì che Napoli venga esclusa da quello che è uno straordinario evento musicale e quindi Napoli non deve uscire assolutamente dal circuito degli eventi musicali internazionali. Se saranno puntuali, così come hanno detto nella presentazione di progetti e dello studio di fattibilità che ci sarà potremmo dire che tra giugno e luglio potranno iniziare i lavori.